Ciao, io sono Elia Calò, ben ritrovato al giardino sotto il naso, ci troviamo qui nel Bar Mita e siamo pronti per una nuova interessante ricetta. In questo video ti parlerò di come creare un drink stile americano, per capirci, quindi un buon aperitivo, non eccessivamente alcolico, piacevole del gusto resinoso. Io sono un bartender professionista, appassionato e studioso di erbe spontanee, ideatore di amaro satio, liquore pineta, vermouth pita e ultimo arrivato liquore al mirto fore e ora andiamo a scoprire come preparare il nostro in galleria. Elia, ma che succede? Accendere le luci in galleria, accendere le luci in galleria. Ma che dici? Galleria è il nome del locale a Lecce dove lavora la Roberta, il locale di Pierpaolo. Hai ragione, hai ragione, allora le puoi accedere le luci. Eh, è vero, è vero, è vero. Allora, vabbè Betty, questa scena la puoi tagliare eventualmente. Decisamente. Bene, prima di cominciare mi raccomando, iscriviti al canale, clicca sulla campanella e se ti va seguici anche sui canali Instagram e Facebook, sempre con il giardino sotto il naso, dove pubblichiamo regolarmente contenuti diversi appunto da quelli da YouTube. Ma ora entriamoci in questa ricetta, appunto è una ricetta built, si sta seguendo anche l'ABC del bartender e quindi built significa appunto costruita direttamente nel bicchiere. È sullo stile, per capirci, americano, negroni come composizione. Quindi ha una parte dolce data dal vermut, in questo caso un vermut rosso, in questo caso andremo ad utilizzare il nostro vermut vita. una parte amaricante, quindi bitter, puoi utilizzare campari, carpa, insomma quello che hai e andremo a darle una nota resinosa data dal nostro liquore pineta e infine andremo a ribilanciare il tutto con una nota acidula data dal succo di limone spremuto fresco. Quindi 3cl, 3cl, 1cl e mezzo e circa 1cl, 1cl e mezzo, questa seconda del gusto di succo di limone spremuto fresco. Questa ricetta non l'ho inventata io, in realtà appunto stavamo scherzando sul nome galleria prima perché questa ricetta mi è stata segnalata da Roberta Lecce che appunto, Lecce è il cognome ma indovinate dove lavora? Milano? No. Ad Ancona? No. Lavora a Lecce. In realtà lavora appunto in questo locale molto carino, vicino proprio nel cuore di Lecce che si chiama appunto galleria e se ti capita insomma andate a trovarli perché sono veramente in gamba. Bene, adesso procediamo. Io ho già messo del ghiaccio nel bicchiere, andrò a togliere appunto l'acqua del ghiaccio che eventualmente si è sciolta e andrò semplicemente a versare gli ingredienti uno dietro l'altro. Quindi 3cl abbiamo detto di bitter campari o di bitter carpano, perfetto. 3cl del nostro vermut mita che appunto base vino verdeca è 60 botaniche, dal colore ambrato proprio perché contiene poco caramello e andremo a dare il nostro risvolto diciamo resinoso al nostro drink così e andremo a completare il tutto con circa 1cl, 1cl, 1cl e mezzo di succo di limone, in realtà lo vado a filtrare in questo momento, ok, e andrò a mettere 1cl per iniziare e ne lascio un pochino nel jigger. A questo punto vado a miscelare il tutto e mi regolo se quell'altro mezzo cl versarlo o no. Io lo aggiungerei proprio per dargli questa nota un po' acidula per facilitare insomma per categorizzarlo proprio come drink aperitivo. Wow, veramente molto buono. Brava Roberta, hai fatto un ottimo lavoro. A questo punto andiamo a completare il nostro drink con 1 o 2 cubettini di ghiaccio giusto per insomma che renderlo ancora più carino e andiamo a decorarlo. Io in realtà ho messo degli aghi di pino, un fiorellino di calendula visto che siamo in periodo e poi possiamo anche aggiungerci, volendo, farci un nostro twist lemon. Quindi andiamo a spremere gli oli essenziali contenuti appunto sulla buccia del limone. Perfetto. Abbiamo un bel gioco di colori appunto giallo e rosso proprio perché Lecce è la nostra città ma Lecce è anche il cognome della nostra amica e quindi siamo belli e pronti. Ed ecco a te il tuo in galleria. Se ti è piaciuto questo video mi raccomando un bel pollice all'insù, commenta e condividi con i tuoi amici in questo modo mi darai la possibilità di continuare a crescere e a darti maggiore contenuto gratuito. Approfitta dei commenti per iscrivermi se c'è magari qualche argomento che vorresti approfondire e mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella di indone. In questo modo rimarrai sempre aggiornato e non ti perderai neanche un episodio. Non resta altro che adesso ci vediamo presto, anzi prezzissimo. Alla prossima. Ciao. 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 Ciao.